Importanza dell'aglio nella nostra vita quotidiana e i suoi valori nutrizionali. L'aglio ha il potere di ravvivare istantaneamente qualsiasi piatto e trattare alcuni dei disturbi più comuni. Fa davvero miracoli nella tua vita se consumato regolarmente. Mentre l'aglio è un ingrediente comune in ogni cucina, è stato molto apprezzato per le sue proprietà benefiche per la salute, che sono ancora oggi seguite in molte culture. È stato usato sia come aromatizzante alimentare che come medicina tradizionale. I nostri antenati lo hanno usato come repellente per insetti, l'Europa medievale contro la peste. Il composto contenente zolfo, l'allicina, che si trova nell'aglio fresco tritato o masticato ha proprietà antibatteriche e antifungine e può aiutare a prevenire anche alcune forme di cancro. L'aglio è anche arricchito con vitamina B1, B2, B3, B6, folato, vitamina C, calcio, ferro, magnesio, manganese, fosforo, potassio, sodio e zinco. Ci sono diverse varietà o sottospecie di aglio. Sono aglio a pasta dura e aglio morbido. L'aglio arnec viene generalmente coltivato in climi più freschi e produce grandi chiodi di garofano, mentre l'aglio morbido viene generalmente coltivato più vicino all'equatore e produce piccoli chiodi di garofano. Uno dei famosi consulenti nutrizionisti e dimagranti è un fan dei benefici medicinali dell'aglio. Dice che l'alto contenuto di zolfo nell'aglio conferisce proprietà antibiotiche aiutando a mantenere pulito il sistema digestivo eliminando le tossine. Costruisce anche l'immunità contro il raffreddore e previene i disturbi cardiaci eliminando le arterie bloccate. È ottimo per il ringiovanimento e la cicatrizzazione delle cicatrici della pelle e dona lucentezza alla pelle in quanto mantiene la digestione al top della forma. Lei consiglia di consumare l'aglio in un modo specifico che è quello di mettere uno spicchio tra due denti, mordere un po' per rilasciare i suoi estratti e poi ingoiare tutto con acqua. Dice anche che il valore medicinale dell'aglio è meglio sbloccato quando viene consumato crudo. Costruttore di immunità. L'aglio ti dà sollievo da quel raffreddore influenza ostinati. Prendendo due o tre spicchi di aglio crudo cotto al giorno, non solo potrai alleviare il naso ripieno e curare il freddo, ma costruisci anche la tua immunità contro questi visitatori frequenti nel tempo. Consumare l'aglio su base giornaliera. È anche immensamente utile per regolare i livelli di pressione sanguigna e di zucchero nel sangue. È essenziale ricordare che il composto contenente zolfo tende a perdere le sue proprietà medicinali quando l'aglio è cotto intero. Attiva anche gli enzimi epatici responsabili dell'espulsione delle tossine dal corpo. È imperativo consumare l'aglio crudo o semicotto per ricavarne i benefici. Si dice che rafforzi l'immunità del corpo contro il cancro. In comune, si è riscontrato che il consumo di aglio era associato a un rischio significativamente inferiore di sviluppare la malattia. È il miglior potenziamento immunitario e i composti di aglio possono avere effetti positivi sul sistema immunitario, aiutandoti a recuperare più rapidamente dalla malattia. Forme disponibili di aglio. Queste sono disponibili come preparazione in polvere di aglio secco, estratto in odore di aglio, sia in capsule o pillole. Ma ti suggerirei di consumare l'aglio crudo o fresco in forma naturale per trarne beneficio rapidamente, piuttosto che assumerlo in altre forme. L'aglio è uno dei tesori medicinali meglio custoditi dell'era passata. Il consumo giornaliero di aglio può prevenire i tumori dello stomaco e del colon retto. L'aglio può essere usato come un efficace agente antibatterico. Libero da infezioni. Applicato localmente, l'aglio fa miracoli per la pelle infetta da infezioni fungine e fornisce sollievo dai disturbi della pelle come l'eczema. È anche un rimedio efficace per le infezioni fungine come piede d'atleta e tigna. È stato usato come antibiotico per il trattamento di infezioni batteriche, fungine e parassitarie. Gli studi suggeriscono che l'estratto di aglio diluito aiuta i bambini con infezioni d'atenia. L'aglio è bannoto per le sue proprietà antibatteriche e antivirali che aiutano a controllare le infezioni batteriche, virali, fungine, dei lieviti e dei vermi. Benefici dell'aglio per i capelli Lo sfregamento dell'estratto di aglio schiacciato sul cuoio capelluto o il massaggio con olio infuso con l'aglio è noto per prevenire e persino invertire la caduta dei capelli. Benefici d'aglio per la pelle Gel d'aglio applicato sulla pelle Può trattare tigna, prurito e piede d'atleta. Per fare la tua applicazione di pasta all'aglio, tritare uno spicchio d'aglio e mescolare con aloe vera, olio di cocco o olio d'oliva e applicare sulla zona interessata. I suoi effetti medicinali speciali sono i seguenti. L'aglio è stato assunto per prevenire e curare una vasta gamma di condizioni e malattie. L'aglio può avere una serie di benefici per la salute sia crudi che cotti e ha anche proprietà antibiotiche significative. È stato usato dall'uomo per migliaia di anni sia per scopi culinari che per i suoi benefici sulla salute e terapeutici. L'uso di aglio per il trattamento di problemi respiratori, parassiti, cattiva digestione e affaticamento. L'aglio è ampiamente utilizzato per diverse condizioni legate al sistema sanguigno e al cuore, tra cui l'aterosclerosi, che significa indurimento delle arterie, infarto, malattie cardiache, colesterolo alto. È un inoltre è usato nel trattamento di pazienti affetti da IV. Inoltre, nei tempi antichi usava trattare i morsi di serpente, la diarrea, l'esaurimento da calore, la peste, la lebra e il vaiolo. L'aglio è usato anche oggi da alcune persone per la prevenzione del cancro del polmone, del cancro alla prostata, del cancro al seno, del cancro allo stomaco, del cancro del rep e cancro al colon. Le persone che hanno mangiato aglio crudo almeno due volte a settimana avevano un rischio più basso di sviluppare il cancro ai polmoni secondo uno studio condotto in Cina. Alcuni ricercatori hanno scoperto che l'olio d'aglio aiuta a proteggere il cuore durante la chirurgia cardiaca e dopo un infarto. Gli scienziati hanno scoperto che l'olio d'aglio può aiutare a proteggere i pazienti diabetici dalla cardiomiopatia. Porta anche ad una diminuizione del livello di ossidazione del prodotto nei campioni di sangue, il che dimostra una riduzione delle reazioni di ossidazione nel corpo. Per le donne, l'aglio era associato a un rischio generale inferiore di pitidispontaneo che significa parto prematuro. Consumare aglio crudo ogni giorno prima dell'ovulazione aumenta la tua possibilità di concepire. Per gli uomini, l'aglio combatte le malattie cardiache, diminuisce la pressione sanguigna e previene i coaguli di sangue. È stato anche detto che abbassa il livello di colesterolo. Potenzialmente aiutando a ridurre il rischio di ictus e altri problemi circolatori. Pertanto, è possibile gustare l'aglio in vari modi per coglierne i benefici. L'assunzione di composti salutari di aglio consumando l'aglio fresco e schiacciato regolarmente o assumendo integratori di aglio ti terrà sicuramente lontano da tutte le malattie. Donz, i pazienti asmatici non dovrebbero consumare aglio in quanto potrebbero avere effetti collaterali. L'aglio deve essere evitato prima di interventi chirurgici o operazioni mediche. L'aglio abbassa il potenziale di guarigione e deve essere evitato e distrugge il composto contenente zolfo attivo trovato in esso chiamato allicin.Don non applicare la miscela di aglio che è l'aglio non diluito in quantità maggiori per la pelle infetta in quanto può bruciare la pelle. L'applicazione topica di aglio crudo ai bambini piccoli non è consigliabile.Se i gerdosi di aglio prese di quanto raccomandato, può portare a un rischio più elevato di sanguinamento. Gli integratori alimentari sono generalmente considerati sicuri e si trattano anche bene con il gonfiore o disturbi gastrici. L'aglio può interagire con alcune medicine tra cui anticoagulanti, farmaci antivirali o altri farmaci da prescrizione. Mangiare a stomaco vuoto lo rende un potente antibiotico naturale. È più efficace quando lo mangi prima di colazione, ma solo uno o due chiodi di garofano dovrebbero essere nei limiti perché i batteri sono esposti e non possono difendersi dal soccombere al suo potere. Questo regime ha prodotto buoni risultati. Per una buona salute e per un buon sapore, è un fan dell'aglio. Grazie per aver guardato questo video. Spero che tu lo trovi informativo. In tal caso, si prega di condividere e sottoscrivere il mio video per ulteriori informazioni utili.